Presidente Senna, si è parlato tanto anche oggi di cassa integrazione in Commissione Quarta, il Presidente dell'Inps Tridico ha detto che entro domani saranno pagate tutte le domande ancora in evase. Un suo commento? Sì, meglio tardi che mai. Ha dichiarato che saranno 500.000 le cassa integrazioni erogate domani. Noi siamo fiduciosi, vogliamo crederci. Si è cercato di dare la responsabilità alle regioni, ricordo che la regione Lombardia ha già processato la maggioranza di quelle che sono le richieste di cassa integrazione, rimangono indietro alcune ma sono più errori di compilazione che tempi lunghi i nostri. Speriamo che dal lunedì tutti abbiano quello che devono avere e che non si continui con queste polemiche, con questo rimbalzare la colpa di Caio, la colpa di Tizio. importante che arrivino i denari alle famiglie per quanto meno poter andare a fare la spesa.